A Kiko che ti mangeresti oggi? Spaghetto pure alici come lo faceva mi nonna Come me lo faceva tu nonna io non lo so ma ora ti faccio vedere come lo faccio io Dai e va! Acqua bollente ce la spostiamo Olio extravergine Spicchietto d'aglio crattato Eccole alici Risottiamo la pasta Ne sto a fare una cifra perchè ho una fame E pure perchè è troppo buona Pizzichetto di pepe Ah oh tu nonna sarebbe stata fiera di me Si vabbè mo vedemo Intanto burro a pezzetti A fine cottura scorza di lime Burro a fuoco spento Aosali che è pronto Mi nonna era brava ma questa Ah raga già si è finita Fatemi sapere nei commenti cosa volete vedere nella prossima ricetta